Casa grigia? Eh sì, guardate che meraviglia! Siamo a Roma, entrate! 60% grigio, 30% legno e 10% nero. Risultato stupendo. Questo grigio nube è da salvare, complesso e elegante. La prima cosa che spunta all'occhio è la colonna. Non solo nasconde i tubi dei vecchi termosifoni, ma diventa un elemento decorativo ad impatto. La cucina moderna è alta fino al soffitto. Il cartongesso riempie lo spazio inutilizzato. Guardate che chicca! Una cantinetta dei vigni da 9 bottiglie, larga appena 15 cm. Nel soggiorno la parete attrezzata richiama lo stesso design della cucina. I tagli di luci, incassati nel soffitto e nelle pareti dell'open space, oltre ad essere bellissimi, sono collegati all'impianto di domotica per creare diverse atmosfere. La camera da letto è un rifugio privato, con un bagno in suite e una cabina armadio su misura. Questo è uno dei 15 progetti selezionati da Spazi Belli Open House. Complimenti all'architetto!